20 anni per realizzare meno di 10 chilometri di strada. Correva l'anno 1998 quando si iniziò a parlare di costruire la tangenziale tra San Polo e San Giorgio. Oggi finalmente si vede una luce in fondo al tunnel, quello per fortuna non è da costruire, però un ponte sì e ci vorrà del tempo. La provincia ha sottoscritto la convenzione per la ripresa dei lavori della variante alla strada provinciale di Carpaneto nel tratto tra località Crocetta nel comune di Podenzano e l'abitato di Pozzo Pagano nel comune di San Giorgio. La firma tra auto via Padana provincia comune di San Giorgio e comune di Podenzano consente l'avvio formale dell'intervento che necessita ancora di un paio di autorizzazioni da parte della regione e poi potrà prendere il via. I lavori potrebbero partire entro fine anno e dovrebbero durare tre anni. Questa è una giornata permettetemi di dire molto importante perché anche se di fatto la firma di una convenzione un atto formale per arrivare a definire tutti i dettagli insomma ci ha voluto del tempo perché andava a coinvolgere un nuovo soggetto autovie Padane e anche se vogliamo nuove amministrazioni rispetto a quello che avevano segnato l'accordo precedentemente. In attesa che l'intervento si concluda è stata avanzata la richiesta da parte dei comuni interessati di poter utilizzare gli stralci realizzati. Ovvio che la tangenziale è un'opera integra e deve essere consegnata con la udata integra completamente. Il fatto di poterla realizzare cioè di poterla rendere utilizzabile per stralci rende la possibilità agli amministratori di poter decidere se prendere in carico questa parte di strada realizzata e con la udata e quindi dare la possibilità di togliere del traffico all'interno dei centri abitati di San Polo e di Podenzano. L'intervento come dicevamo è atteso da tanti anni. Non posso che ritenermi soddisfatta nell'interesse del paese ripeto in vista anche della questione aeroporto e della questione case nuove per cui ci sarà sicuramente un miglioramento grande nella viabilità. Speriamo un minore inquinamento nel paese perché adesso effettivamente il traffico anche pesante è molto intenso.